Max, come sta andando questa giornata sportiva dell'Unicusano? Bene, perché hanno fatto un lavoro incredibile fino a questa notte. Sono andati a dormire i ragazzi di ingegneria del comitato organizzatore tra le due e mezza e le tre. Non so perché alla stessa ora in cui sono andato a dormire io ci scriviamo sulla chat. Abbiamo portato gli stessi striscioni che avevamo presso all'arena di Pula nel 2019 quando siamo stati per la prima volta a partecipare a una rassegna internazionale. Cinque discipline, una più dell'altro anno. Un centro sportivo funzionale come vedete a due passi dall'università perché qui sarà un chilometro. Funziona tutto bene perché questi ragazzi entusiasti con la palla a volo, con il paddle da quella parte. Poi c'è la parte del paintball, c'è la palla a canestro, c'è il calcio a cinque, le porte montate. Hanno fatto un lavoro logisticamente e di impegno da applausi, semplicemente. Ma quanto è importante il valore dello sport per unire ancora di più i nostri ragazzi dell'Unicusano? Guarda, addirittura unire non solo i ragazzi e i ragazzi, ma i professori, i dipendenti. L'altro anno sono venuti i genitori dei ragazzi a raccontarci di quale entusiasmo le abbia contagiati. Il primo anno l'abbiamo fatta al Don Pino Pugliesi, il campo del Monte Spacchiato. Quest'anno l'abbiamo fatta qui. Mi sembra di vedere gente che ha voglia di divertirsi al di là dell'agonismo, che ha voglia di stare insieme, che ha voglia anche di conoscersi meglio di come facciamo tante volte di corsa nei corridoi dell'università, quando parliamo di studio, di libri, di questioni professionali, didattiche, accademiche. Invece oggi c'è proprio la voglia di stare insieme. La domenica particolare il tempo ci ha aiutato, Thomas, perché guarda che bella giornata. Lo scorso anno uguale, era un po' più fredda perché era sabato 14 gennaio. Quest'anno a marzo hanno eseguito un lavoro organizzativo clamoroso, addirittura mandando nelle chat gli orari delle singole discipline, i PDF, modificando all'ultimo quelli che magari erano ritardatari per poter far partecipare quanto è più possibile tra studentesse, studenti e dipendenti. Stasera noi abbiamo anche la finale come squadra della radio contro quella vigilanza, l'Europa League, perché non siamo stai bravi di arrivare alla finalissima assoluta. E poi naturalmente questa sera ci sarebbe il telegiornale di Graziano Tallone alle 20 e il mio alle 20 e 30. Quindi il rischio è che sotto io abbia la tuta, la fantozzi e sopra giacca e cravatta. C'è questo rischio, ma la prendiamo con serenità. C'è Jacopo Bondecchi, Ciccio Casuli, c'è tutto un gruppo che ha lavorato su questo. Non è una cosa nata casualmente, l'idea è stata di Jacopo. Jacopo, tu sei uno dei promotori di questa giornata sportiva dell'Unicusano, un grande successo, tanti studenti, tanti dipendenti, quindi giornata riuscita. Sì, sicuramente riuscita in buona parte, soprattutto dal punto di vista dell'affluenza. Devo dire che abbiamo avuto un po' di intoppi all'inizio, sicuramente, perché ci sono state delle problematiche legate soprattutto a qualche piccola assenza iniziale. Però abbiamo risolto e adesso sta proseguendo per il meglio, quindi sta andando, sta andando piacevolmente. Quanto è importante lo sport per unire ancora di più i ragazzi che frequentano l'Unicusano? Direi il più possibile. Sicuramente lo sport è un momento in cui tutte le persone si riescono a connettere insieme, perlomeno facendo un'attività principale. Questa nostra iniziativa era nata anche e soprattutto per connettere il più possibile dipendenti, professori e studenti della stessa università in una giornata di ludo e divertimento potenzialmente. Graziano, questa giornata di sport, sei qua con i tuoi colleghi, siete senza cravatta, senza giacca, è strano. Eh beh sì, è la prima volta, però è una giornata bella, è una giornata sportiva e quindi giustamente ci vuole l'habitatto, questo è il più consono che ho trovato, però devo dire che è una bella atmosfera e siamo pronti carichi per la finale stasera. L'University Gaffer, raccontaci un po' cosa è stato, cosa ha rappresentato, tu sei tra i ragazzi che si sono impegnati di più nell'organizzarla. È un bel momento di aggregazione, poi sai lo sport per me è una di quelle cose che riesci ad unire più di tante altre, ecco, in un contesto lavorativo in cui sei costretto a vedere i tuoi colleghi sempre, ecco, in giacca e cravatta, nel nostro caso, nel loro, da studenti, in questo contesto invece ti ritrovi ad essere tutti sullo stesso piano, direttori, colleghi, giornalisti professionisti, giornalisti insomma provetto, ti ritrovi in questa situazione qui ed è bello perché è aggregazione, come diciamo. Ecco, ma chi sono più forti, studenti o giornalisti? Ma assolutamente i giornalisti, l'abbiamo dimostrato, siamo in finale, i studenti hanno provato con le loro armi, ma noi abbiamo più furbizia, più esperienza e l'abbiamo mostrato in campo. Manolo, tu sei uno degli studenti dell'Unicusano, ti sei occupato di organizzare la parte del paintball di questa giornata sportiva e devo dire sta riscuotendo molto successo questo tra i ragazzi. Sì, diciamo che quest'anno, a differenza dello scorso anno, dello scorso evento, abbiamo avuto più squadre e ci dispiace soltanto che abbiamo trovato una location dove il campo ci ha assistito di meno, avendo una struttura un pochino più piccola. Abbiamo fatto un torneo a tre invece che a cinque come lo scorso anno, ma come stiamo notando sempre di più il paintball è una delle discipline più cliccate fra gli studenti e i dipendenti dell'Unicusano. Luca Lamonaca, come sta andando questa giornata di sport dell'Unicusano? Ho appena perso a paintball, quindi la prima l'ho vinta, la seconda l'ho persa, però mi sto divertendo, bellissima giornata, tutto molto bello, l'importante è partecipare. Lorenzo Guagliano, stasera ce ne avete detto finale University Cup, che competizione è stata e quanto è importante il valore dello sport per voi ragazzi? Per noi ragazzi il valore dello sport è molto importante, io faccio molto sport gioco a calcio, ma è una cosa che mi piace, penso che sia una passione, un divertimento, comunque è un posto in cui fare amicizia. Stasera abbiamo questa finale, abbiamo fatto un bel girone vincendo tutte le partite, anche la semifinale l'abbiamo vinta, però gli avversari si sono rinforzati tanto e stasera sarà una bella partita, molto combattuta, vedremo un attimo come andrà a finire. Gianluca Fabbi, dalla scrivania del telegiornale, dal microfono della radio al campo da padel, l'abbiamo visto comunque, un'ottima tenuta atletica direttore. Beh sì, oltre alla testa bisogna tenere in forma anche gambe, il resto del corpo e il padel è uno sport nuovo che mi ha particolarmente coinvolto e quindi grazie all'Unicusano che ci ha dato modo di fare questo torneo. Ma quanto è importante il valore dello sport per unire anche tutte le varie figure dell'Unicusano, dagli studenti ai professori ai giornalisti, a chi lavora nell'Ateneo? Beh queste sono quelle iniziative che vengono definite con il termine di team building, sì servono proprio a conoscerci al di fuori di quelle che sono le dinamiche professionali, è una cosa molto bella e molto importante perché magari incontri tante volte tante persone, noi siamo una realtà aziendale molto grande, ti saluti però non ti conosci e questa è l'occasione per conoscersi meglio. Grazie. Grazie.